Eh, tu devi seguirmi, si hai ragione, hai ragione. Però a me ho visto che sei partito, mi hai seguito bene. Si, 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 beh. Sei partito subito. Poi ho mollato un microsecondo perché ho visto che ti riprendi dopo e ho ripreso. Pronti? Via! Pronti. Si, tu rimassi, ma l'verThis roba di una stanza qua in informazione, ricezione, entertaining, libero, non è disbarato che tremo.